BOOM e MAX! Se lo chiamo Eros Tassinari che a vedere il Perizona Party Ciao Eros! Eros! Dove sei Eros? Eros! Dopo lo salutiamo! Basta ma cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Stiamo lavorando per voi polemiche diaboliche Polemiche! Eeeh! E' un po' a due Sulla fisica... Non sono fisica E' un po' di amore 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 Perfetto! Mi sfoglio dentro, ma... Ti allucchiate! Ah, poi... Devi cercare, lui, una cena su un telefono Che era un persona sia difficile Dica!